Mi chiamo Idesi. Lei è mia nipote memory di un anno e tre mesi. Vive con me perché mia sorella è morta improvvisamente. Siamo all'ospedale rurale da una settimana perché mia nipote era diventata debolissima e dimagriva sempre più. Aveva perso completamente l'appetito. Le è stato somministrato del latte altamente proteico, l'F75, perché non era in grado di digerire alimenti solidi. Poi dopo quattro giorni ha potuto mangiare le barrette di Plampinat. Dopo una settimana è molto migliorata. Può tornare a casa, ma deve continuare le cure adeguate.